Questo film alla fine mi sono accorto che è un po', quindi ragazzi fermiamoci e capiamo com'era la nostra Palermo, come siamo cresciuti. Con gli occhi di oggi, io dico, io essendo quarantenne avevo vent'anni nel 92 perché la tragedia, le strage del 92 ci hanno segnato, e un po', forse io faccio parte di quella generazione che, appunto, segnata da quelle stragi, non ha più la rassegnazione che aveva la generazione dei miei genitori. E quindi, andate a vedere questo film, per carità Cristiano. Siciliano Mertoso, io oggi lo capisco, cioè quando negli anni 70 tu vedevi un omicidio, è ovvio che negavi, ma l'avrei negato pure io, perché negli anni 70, il sette volte presidente del Consiglio, era colluso, scendeva a Palermo per parlare degli omicidi, dell'omicidio Mattarella. Cioè, negli anni 70 lo Stato non aveva l'approccio giusto, non aveva proprio intenzione di sconfiggere la mafia. Io ho incontrato, purtroppo nel film non l'ho potuto mettere, un poliziotto che andava a arrestare i latitanti mafiosi con la sua 500 gialla. Gli episodi che vedete nel film, in realtà gli autori, il film è stato scritto da me, Michele Astori e Marco Martani, lo dico, caso mai la mafia volesse fare qualcosa, insomma, dividiamo la vendetta. Però sono tutte tratte da cose vere, quindi in realtà parte dei diritti CIA che mi arrivano da questo film, io lo dovrò dividere con Totò, Rina e tutti gli altri. Quindi mettetevi d'accordo, insomma, non incominciate a fare scoppiare una guerra di mafia per le CIA e di questo film. Ovviamente questo è un film bellissimo, scherzo, io non l'ho visto, sceneggiatura straordinaria. Piff è un autore vero, ha dimostrato a Torino il successo che vuole il film, adesso lo vedrò e poi verrò di nuovo a dirti che è bellissimo. Ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti!